Montanare quindi? Montanare. Caliamo di rovescio? Le due buttate sotto. Lasciamo anche le buttate. Si buttate a partire, sono in quattro e rovescio e le buttate in fondo. Le buttate dove? Le buttate a partire. Due due in fondo perché tagliamo. In piedi, vatti sopra e tratta l'ordine. Ricordateci in gara. No, ritroppo. Si, va bene. C'è anche la rezzonella che amo. Livelli! Si buttate. No, ritroppo. No, ritroppo. No, ritroppo. No, ritroppo. No, ritroppo. No, ritroppo. Riosi. Beau! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.